Per una donna non può essere, quindi ti guardano con curiosità per questo. A me non avrebbero scommesso, ci sono due scommettevano perché nel giro di una settimana mi sarei ritirata, mi ha dato le dimissioni. Poi il tempo che mi hanno conosciuto invece... Guarda bene, guarda bene. E' entrata dopo di me, che gira tutte le linee, fa... Te l'ho detto, sono scelta comunque. Sì, sì, è brevissima, brevissima, tanto di cappello perché comunque... che non sono, no, nei quartieri, ma c'è una mentalità ancora più chiusa per tutta la città in generale. Siamo, quando le donne fanno questo lavoro, c'è la differenza. Penso che siamo in caspitazione, perché è una roba possibile, perché... In caspitazione, il personale femminile, si è ritostata molto aperta, molto... con il treno. Ma dove si presenta un problema, non puoi cercare di realità, di tenirti incontro da dove possibile. In caso di incidente, ad esempio, la telecamara avrebbe già registrato tutto l'accaduto. Sì, sai perché? Perché certe volte, siccome Catania come strade, lascia qua a desiderare, quindi magari i fossi, le cuche che tu prendi, rimando per subballare qualcosa nella macchinetta, e allora per una fesseria magari non timbra. Sai certe volte per cosa? Anche se rimano un pezzettino di cartoncino. Quindi qua ora, o mi aspetto, mi fermo, mi aspetto un'ora che questo si fa i suoi comodi, ovviamente, che è uno di bevande, vedi, c'entro bevande e coca-cola. Quindi aspetto i suoi comodi, oppure soppasso a mio rischio e pericolo. Tu so, e fuoriesco dalla corsa di preferenza. Che pericatanesi è l'arbero ranni. Ora ti dico anche perché, ti posso vedere anche perché. Quando sono entrata qua, in pratica, i colleghi mi hanno iscritto anche sul fatto che pericatanesi ci sono certi punti che si chiamano in certi modi. E quindi mi hanno detto, se ti chiedono questa cosa vuol dire questo, se ti chiedono, tipo Piazza Duomo che è qua vicino. Pericatanesi è l'acqua lenzuolo perché c'è una fontana che quando cade l'acqua sembra un lenzuolo sterile. Che tu ovviamente se non sei di Catania e fra l'altro agè di Catania, non ne puoi sapere queste cose. Fino a questo, cioè mi hanno aiutato fino in questo. Oppure Piazza Caudure, che è comunemente detto Piazza Borgo. Pericatanesi è un bucco. E quindi mi disse, se ti chiedono un bucco, è Piazza Caudure. Qua si arriva alla Piazza Borsettino, Piazza Caudure. L'albero Ranni. E in pratica questo albero tagliato in qua. Ci sono un paese di quelli proprio all'angolo che sono dei tempi di grandissimi. Qua c'è una fermata dell'alibus, è quello che è piaciuto veramente. Ecco, vedi le macchine, gli autobus, entriamo, le autobus. Qua e le macchine di là. Quando si incolonnano, noi non riusciamo a girare con gli autobus. Si crea un tasamento che arriva fino alla stazione. Ed è soprattutto in giornate di grandi traffici, tipo pre-festivi, oppure giornate particolari magari se c'è qualcosa a Piazza Duomo, perché in questo parcheggio serve la Piazza Duomo. Tu vedrai che la maggior parte di questi compagni avrà, al contrario di Piazza Sanso, di Piazza Le Sanso. No, tutte in gamba. Penso, una donna in locale, dispettosa e la lavoratrice e la mamma. Ovviamente le macchine che si tirano, stanno bloccando l'olio. Però c'è pure i costi di utilizzare, guarda come funzionano le macchine a posto. Stai vedendo, questo è il costi di utilizzare. Viale Vittorio Veneto. Qua lo devo fare tutto fuori dalla costia preferenziale. Quindi le costie preferenziale servono a moglie per mantenere i tempi di percorrenza, con quelli che sono, che c'erano i tempi di percorrenza. Ok, magari. È bellissima, è bellissima. Ma sono anche brava la guida, no? Certo, l'una di quelle è bellissima. Perché è bellissima? Perché la prima volta l'ho vista lei, io scendo qua la trafermata, ma l'ho vista che lei sa guidare veramente.